vediamo i fatti dell'ane la donna che risate ragazzi stavo leggendo quello che hanno scritto i ragazzi beh lì poi quante risate ti abbiamo fatto su andrea su quella cosa lì quando è uscito il video avevamo le lacrime avevamo le lacrime ogni tanto ogni tanto ricompare nel gruppo andre scegli a chi è tuo compagno a matteo prossimo video a matteo grandi ragazzi per favore cos'è che cos'è che hai letto i fatti dell'ane vogliono fare un video simile a quello che hanno fatto a me io in Disa 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 Ciao a tutti Ciao a tutti